Un perimetro di telecamere Targa System a Cornedo Vicentino che potenzia la sorveglianza del territorio con altre due in arterie importanti della città, a Spagnago, lungo la provinciale, all'incrocio fra via Monte Pasubio e via Roma. Ogni veicolo che entra nel territorio comunale è così registrato dal server della polizia locale. Sono monitorati dai 10 ai 15 mila veicoli al giorno. Telecamere sentinella volte ad individuare i mezzi scoperti di assicurazione che hanno la funzione di tracciare il passaggio di veicoli attenzionati dalle forze dell'ordine come auto rubate o in fuga dopo aver commesso reati. Continua in questo momento storico gli investimenti in termini di sicurezza. Questo è l'ultimo che abbiamo eseguito. È una telecamera di contesto di ultima generazione che vede a 360 gradi. e ha una funzione ben precisa. Partiamo dal concetto che tutto il territorio comunale è perimetrato da telecamere Targa System ad alta definizione, cioè telecamere che leggono la targa, che individuano i veicoli non assicurati, non revisionati o i veicoli anche attenzionati dalle forze di polizia. Una volta entrati nel nostro territorio le forze di polizia hanno necessità di capire gli spostamenti di questi veicoli. Ecco che le telecamere ad alta definizione posti in crocevia viabilistici importanti permettono una maggiore sicurezza del territorio e un maggior controllo.